In questo particolare momento di difficoltà diffusa, ancora una volta Finimpresse e Crotone fa proprie necessità dei suoi associati, nello specifico alcuni esercenti le attività di bar e ristorazione, in genere presenti sul lungomare e nel centro, rivolgendosi con un appello al commissario prefettizio di Crotone. Il 3 maggio 2020 si avvierà la cosiddetta fase 2 che prevede l'allentamento delle misure restrittive da coronavirus, ma per la riapertura di bar e ristoranti si dovrà aspettare di più, poiché sono tra le attività considerate a rischio medio-alto. L'intero comparto è, pertanto, uno di quelli più colpiti dall'emergenza coronavirus e anche se alcune categorie stanno già operando con la consegna a domicilio, è evidente che questa è stata una soluzione utile solo per sopravvivere durante questo periodo. Avvicinarsi alla normalità vuol dire anche prepararsi in vista delle riaperture, ma per la fase 2 bisogna andare oltre, dando un segnale di ripresa e di speranza, seppur con le dovute precauzioni. I pubblici servizi presenti sul lungomare di Crotone confidano sulla stagione estiva per poter rimediare ad un inverno che per definizione mette in difficoltà le attività. Il 2020, a causa di questa terribile pandemia, più di ogni altro costituisce un annus orribilis sotto tutti i punti di vista, ma risulta evidente che ormai ci incamminiamo verso una fase di convivenza con il virus che deve però avvenire in sicurezza. Il punto di partenza è certamente distanziamento sociale che deve essere rigidamente garantito e non può certamente essere assicurato dalla libera circolazione delle persone sul tratto di lungomare, come avvenuto finora. Pertanto, in ragione di quanto sopraesposto, è stata avanzata la lecita opportuna richiesta al Comune di Crotone della concessione gratuita di maggior spazio per l'utilizzo del suolo pubblico, al fine di garantire il distanziamento sociale e l'adozione di tutte le misure di sicurezza che questa terribile pandemia ha imposto. Oltre che l'annullamento del pagamento dei tributi comunali per l'intero anno 2020, resta inteso che le richieste hanno il solo fine di salvare il salvabile in una condizione già profondamente disastrosa, ma non meno trascurabile l'intento di trasmettere un segnale positivo e di coraggio. L'associazione si rivolge al commissario, conscia del fatto che da persona attenta e sensibile, come ha più volte dimostrato, troverà il modo più idoneo per assecondare le richieste.